Non è buona, non è buona, non è buona, non è buona. Sono arrivati i nuovi domini, è arrivato. Bambini, siete pronti? Sì! Io vengo dal Brasile, io vengo dall'America, io vengo dal Spanio. La presenza di tante culture ti porta a stimoli sempre nuovi. In questo quartiere sono ritornato perché l'anno scorso era stato ucciso un pakistano, un ragazzo di 29 anni, Muhammad Shahzad Khan, che veniva dal Kashmir. Il quartiere aveva espresso la solidarietà addirittura alle mamme di Torbignia, che è un'associazione di Torbignatara, aveva fatto una flash mob. Sono fiero di essere qui e di dare il mio contributo. Sono di questo quartiere, sono cresciuto a Torbignatara. Quando non era come adesso, io ero uno dei pochi figli di genitori stranieri. Mio papà è egiziano, mia mamma è italiana. Oggi è una realtà totalmente diversa. È una giornata bellissima. E anche la giornata di trovare위azione comunicabile. Ciao, ciao ciao. Grazie a tutti. Grazie.